Il museo di Capua sta diventando un importante punto di riferimento culturale della provincia di Caserta però ci sono ancora molte difficoltà per incentivare il turismo in terra di lavoro. Il museo provinciale è credo uno degli esempi più importanti che abbiamo in Campania per quanto riguarda la tutela del patrimonio artistico-culturale. È nato nel 1875 quindi ha una storia molto lunga. Da quando è stato recentemente restaurato nel 2012 ha ricominciato a vivere nel senso che precedentemente era considerata una struttura addetta soprattutto agli studiosi mentre invece dal 2012 è una struttura aperta a tutti. Non ci sono più luoghi sacri, anche la mostra di Giovanni Izzo che noi ospitiamo all'interno della Sala delle Madri proprio questo vuole rappresentare, cioè la fruibilità di un qualcosa, del ricordo di un passato ineguagliabile quale quello che è rappresentato dalle madri con una realtà moderna quale è quella che racconta Giovanni Izzo nelle sue foto. È un percorso che abbiamo iniziato non da molto tempo e da un anno è qualcosa che il museo ha aperto le porte agli altri. È la nostra missione per il futuro cercando di superare quelle che sono le problematiche relative a questi cambiamenti politici che riguardano soprattutto le province e quindi anche per quello che è l'istituzione museo che allo Stato oggi noi non abbiamo ancora un interlocutore preciso col quale avere poi il rapporto o confrontarci per quelle che debbano essere gli sviluppi futuri che questa struttura non solo merita ma che necessitano soprattutto per tenerla ancora in vita e evitare quello che potrebbe paventarsi addirittura una chiusura per le carenze soprattutto di natura economica che ci investono ma non solo la provincia di Caserta ma tutte le province d'Italia. Il flusso di visitatori è in aumento oppure c'è un calo dovuto magari anche alla crisi, al periodo particolare? No, il flusso di visitatori è in aumento e è anche considerevole. Da quando abbiamo iniziato a fare le statistiche fatte, non voglio dire che prima non fossero fatte seriamente ma con un criterio diverso di individuazione anche dei flussi di provenienza noi oggi siamo intorno ai 13.000 visitatori l'anno. Mi rendo conto che non è un numero paragonabile all'importanza del museo che è il secondo per importanza dopo l'archeologico di Napoli. Noi esponiamo oltre 7.000 reperti fra tutto ciò che conserviamo dai vasi ai piatti romani alle madri agli oggetti più... anche comprese ai buccheri, tanto per dirne una che è una delle collezioni più pregiate che abbiamo meriterebbe sicuramente una maggiore affluenza ma questo è un problema molto antico che riguarda il museo proprio credo perché è un po' lontano da quello che è il circuito ufficiale che gira intorno alla Regia.